Ho giupato questa decisione perchè questa Ho fatto solo una cosa perchè perchè ci giupinano perchè quest'ultimo anno era l'ultimo anno che so era l'ultimo anno che so che perchè insomma ho pensato a che tempo e ho parlato pure con una moglie o un figlio e loro sono d'accordo con me e non posso che so che troppo tempo tenendo la responsabilità che insomma purtroppo ho parlato di questa scena di Serie B e io non posso farvi vedere niente e quindi che sei l'ultimo anno che so che da questa squadra e io non ho faccio che voglio stare a spazio quando invece io voglio a base per la cima io ho pallone. senti pure insomma un figlio da casa mia era inutile che so che a spaglia a fare che cosa vi ci putto cose però la salvezza è nata cosa e la verità è nata la verità è che è che voglio i Pizzeria B e poi fai in modo che l'anno prossimo anno che venisse la Pizzeria A rata la volta e e la verità io solamente sto qui venendo sono giallo rossa dentro grazie 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 grazie